Si consegna all'FBI, negli ultimi metri, mani sulla nuca, camminando lì dietro. Jack Teixeira, talpa per gioco e per vanità, domani comparirà davanti al giudice e rischia dieci anni per avere sottratto e poi diffuso segreti di Stato. Un atto criminale e deliberato lo ha definito il Pentagono. Un Pentagono che per più di un anno si è visto rubare da questo aviatore riservista 21enne, original gangster il suo nickname, almeno 300 documenti riservati riguardanti Russia, Cina, la guerra in Ucraina. E' preoccupato? Biden minimizza, preoccupato solo che sia successo ovviamente, ma nella fuga di notizie non c'è nulla di grande rilevanza. Teixeira voleva impressionare i suoi compagni di chat, una ventina che aveva riunito sulla piattaforma di videogiochi Discord. Ci voleva indottrinare i suoi misteri dei governi e si arrabbiava anche quando non lo seguivamo, dirà uno di loro. Il giovane ne aveva possibilità e soprattutto capacità. Lavorava part-time, di notte, nella base militare di Capcode, Massachusetts. Esperto informatico, aggiornava i sistemi della rete interna del Dipartimento di Difesa. Rubare e divulgare i dati è stata per lui una missione. Non perché fosse in busta paga, manovrato dai russi o da altri, ma perché lui, sedicente razzista, suprematista, antisemita e fanatico di armi, odiava i governi pieni di segreti e che tengono all'oscuro i cittadini delle loro mosse.